Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrette, mercogliano, Avellino. Ancora una volta la provincia di Avellino è collegata alle piazze di spaccio di droga, quella pisante. Stiamo parlando di cocaina e crack e non tra piccoli spacciatori ma organizzazioni criminali radicate in Campania. 67 persone arrestate e ritenute irresponsabili a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e produzione, detenzione e spaccio di droga. Cinque organizzazioni dedicate allo spaccio di droga smantellate in tre province campane, Caserta, Napoli e Avellino, sono i numeri della maxi operazione Whitestone realizzata dai carabinieri del comando provinciale di Caserta con il coordinamento della DDA di Napoli. Il GIP del Tribunale napoletano che ha emesso i provvedimenti ha disposto il carcere per 58 indagati tra cui due irpini. I domiciliari per altri nove, cinque persone sono tuttora ricercate. Le indagini sono partite da Santa Maria Capoavetera in provincia di Caserta dopo lo smantellamento avvenuto nel 2013 dei due clan camorristici locali. I carabinieri hanno controllato i movimenti dei sospetti risalendo ai fornitori attivi nell'area vesuviana e poi agli altri sodalizi criminali dediti allo spaccio soprattutto di cocaina e crack. Quattro gruppi operativi a diverse zone, uno dei quattro ha raggiunto la provincia di Avellino, quello attivo nell'area nolana che ha spacciato a coca e crack soprattutto nel Baianese. La provincia di Caserta sembra aver allungato in maniera metodica le sue mani sulla nostra provincia così come ha dichiarato anche il sindaco di Cervinara Filuccio Tangredi ai nostri microfoni dopo i due agguati avvenuti in Valle Caudina sabato sera. I nostri piccoli centri soprattutto quelli di frontiera o quelli subito prossimi al napoletano. Solo pochi giorni fa Travellino e l'immediato Interland e gli investigatori della mobile hanno arrestato sei persone tutte coinvolte secondo l'accusa in un esteso spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso cocaina e crack soprattutto ma pure marijuana. L'inchiesta è scattata nel 2015 e ipotizza un giro di spaccio principalmente di cocaina Travellino e Interland.